Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Posa accadrà nei prossimi episodi di Un Posto al Sole? Uno spoiler drammatico all'arma i fan, Giulia si ritroverà in serio pericolo. Un'altra settimana di Un Posto al Sole sta per giungere al termine e dopo la consueta pausa del weekend, come al solito i colpi di scena non mancheranno. Sul web è trapelato un drammatico spoiler che riguarda Giulia, di che si tratta? La donna si ritroverà in serio pericolo. Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alle puntate che andranno in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio su Rai 3 alle 20.50 circa fanno sapere che i rapporti tra Giordano e Ferri continueranno ad essere molto tesi. Diego rivolgerà dure accuse all'imprenditore, sentendole Filippo chiederà al padre di spiegargli cosa stia succedendo davvero. Eugenio e Lucia sono sempre più vicini e dopo un loro incontro il magistrato deciderà di confrontarsi con Viola. Momento delicato anche per Sassà, a Mariella rivelerà infatti di aver preso una decisione molto difficile. Intanto, Filippo teme di aver superato il limite con il padre, quando tornerà a casa Serena cercherà però di rassicurarlo dicendogli che non ha commesso errori. Le parole di Sartori hanno turbato non poco Marina, chiederà infatti al marito di prendere un'inaspettata decisione. Viola scoprirà che Eugenio è pronto a voltare pagina dopo la fine del loro matrimonio e questo le farà provare un po' di malinconia. Raffaele, invece, riuscirà a risollevare l'umore di Antonio.Uppas, anticipazioni, Giulia organizza una manifestazione, la donna sarà in pericolo. Rosa e altri residenti del quartiere hanno ricevuto un avviso di sfratto, per sensibilizzare l'agente Giulia decide di organizzare una manifestazione, i risultati però si riveleranno lontani da quelli sperati. Al centro di ascolto Rita Giordano Lapoggi si ritroverà a fare i conti con un nuovo attacco di intimidazione che la farà sentire di nuovo in pericolo. Roberto e Marina non sono felici che Tommaso trascorra troppo tempo con Ida, decidono infatti di iscriverlo ad un asilo nido, decisione che non piacerà affatto alla Covalenco. Approfittando della sua vulnerabilità Alberto proverà a riavvicinarsi a Clara, lei dovrà anche fare i conti con una sconcertante telefonata. Giulia pensa che al centro di ascolto abbiano voluto intimidirla, consapevole del fatto che ciò che vogliono è zittirla per via delle sue varie battaglie sulla legalità. Alcuni spoiler fanno sapere che nella vicenda potrebbe essere coinvolto il nuovo personaggio Flavio Bianchi. Nel frattempo Rosa è disperata per ciò che le sta accadendo.Rossella è sempre più concentrata sui preparativi delle nozze e Nunzia non riesce a superare ciò che prova per lei, dopo aver riflettuto sui suoi sentimenti potrebbe prendere una decisione impulsiva. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.